eh c'è troppo casino non riusciamo a vedere niente uh ma la quali dietro? si eh ho visto, ieri abbiamo visto benissimo perché ce la va un po' lì davanti come ha fatto salire lei tu? scusi come ha fatto a salire tu? no, mi riporta a me, guarda che si muove ecco qui si muove, si muove si fresta riesci a fare una foto? si frete essere alle fonte anche il campo di ghera che era è un bel scusco se siete alle fonte naturali questo tipo di spaziera subite anche il campo di ghera che era uscire escire che è un'esercizio grazie grazie fame grazie Ora che sia una pezza del barbino Grazie a tutti 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 Di odio Grazie a tutti